E' Gaetano Armao, il primo professionista che verrà parte del pool di avvocati che seguirà i comuni coinvolti nelle variazioni territoriali. Armao è docente di diritto amministrativo e contabilità pubblica all'Università di Palermo, nonché di diritto dell'economia all'Universitas Mercatorum Roma, avvocato cassazionista con studi associati a Palermo e Roma, sotto di una società londinese e dell'Associazione Italiana Diritto Urbanistico e Giuristi per le Isole, e anche presidente del Consorzio Universitario di Egrigento. Lo hanno individuato il Comitato per lo Sviluppo della Regio Lese, il Comitato Pro Referendum di Piazza Merina, quello per i liberi consorsi di Niscemi e la Consulta di Niscemi. Armao è stato già consulente del Consiglio d'Europa, della Commissione bicamerale antimafia, dei governi nazionale e regionale e oggi fa parte della Commissione bicamerale per le questioni regionali. E' stato per tre volte Assessore della Regione Siciliana. Avevamo promesso battaglia all'Assemblea regionale per la decisione di non far passare Gela Piazza Merina e Niscemi alla città metropolitana di Catania e questa battaglia la stiamo portando avanti. Ovviamente dovremmo rivolgerci al TAR per avere diritto a ciò che i gelesi, i piazzesi e i niscemi hanno scelto e lo faremo attraverso un pool di avvocati che sarà di primo ordine. Appunto il primo avvocato che abbiamo contattato, che ha accettato di seguire questa vicenda, è il professore Gettano Armao. Parliamo di un professore conosciuto in tutta Italia, molto capace e appunto conosce a fondo anche l'argomento inerente ai liberi consorsi. La scelta è stata fatta di concerto con l'amministrazione di Gela, adesso aspetteremo le altre amministrazioni per conoscere anche i nomi degli altri professori che a breve renderemo noti. Si è lavorato in questi mesi, si sta ancora lavorando per preparare il miglior piano a difesa delle volontà espresse dai consigli comunali e cittadini di quest'area rispettando la giusta tempistica. Gela, Piazza Merina e i niscemi vogliono andare a Catania e lo hanno ampiamente dimostrato attraverso il referendum. Le date lanciate da alcuni gruppi in questi giorni di un'eventuale scadenza di presentazione del ricorso sono sbagliate, sono false e non si fa altro che mettere discordia tra la popolazione su un argomento che è ben chiaro, che finora è stato condotto da questi comitati in maniera eccellente, non sbagliando nessuna mostra. La prossima mostra sarà appunto quella del Tarre e lì ribalteremo un risultato in maniera democratica e faremo vedere alla regione siciliana come democraticamente i cittadini hanno il diritto di scegliere ciò che vogliono.